Una musica a costo zero grazie all'utilizzo di oggetti di uso quotidiano, il corpo inteso come strumento di percussione. Il primo lavoro di Yo Sonu si intitola Ju Box ed è uscito il 6 marzo del 2015, interamente registrato fra l'armadio e il salone di casa sua e successivamente perfezionato in studio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.